Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di October Travel Benissimo, andiamo avanti a parlare con la signorina Questa piazza è molto amata dai bambini e dalle nonnette Seme... oh 55 Che cosa strana che sia così basso Perché per carità sono potenti, quindi sono avanzati come cose Però un ricercatore che esamina quotidianamente la qualità delle acque locali Con l'obiettivo di scongiurare il ritorno di un morbo contagioso Che si diffonde dal fiume diversi anni fa Riflette che tali studi siano l'unico omaggio possibile alla memoria della sua defunta moglie Ma che cosa nobile Quindi niente Vediamo di fare altro Ok Bracciale illuminante Schivata P50 Oh porca vacca Vediamo Un bambino di questa città, cresciuto con i genitori tranquilli e gentili Da loro ha credito uno spirito, è realizzato uno spirito compassionevole Che spesso lo induce a nutrire i gatti in andaggi o portare fiori agli amici ammalati Che cosa carina, che cosa dolce E' apprezzato da tutti per la sua spiccata cortesia Immagino che sia apprezzato una persona così cara Vediamo un po' cosa c'è qui Ah dobbiamo fare la schivata, non mi dimentico ed è un casino Vediamo un po', oh cavolo Schivata 50 è tanto Lo trovo, eh Schivata 50 Perfetto E questo è schivata Che cosa abbiamo con schivata qui? Non abbiamo niente Questo è Pia Ovviamente Vediamo un po' Critico e velocità Vediamo se abbiamo qualcosa Velocità e tacco fisico Facciamo schivata Che c'è un altro da 20 Se lo trovo Schivata Velocità 50 Peccato che è impegnato Critico e Potrei mettere critico Che non sarebbe male Un po' più di critico Lui fa parecchio con attacco fisico Vabbè Proviamo a fare velocità E se no Sembrate Schivata Perché se no È un casino Ok A posto Scusate per questo tempo Ma andava fatto Vediamo un po' Ruba Pia Mamma mia Ma che roba è oggi? È Pasqua Insomma Nel senso Di Pagiamont Pia 50 Scusate Se lo trovo Adesso dobbiamo trovarlo Ma porca vacca Allora Pia massimi 50 Ma ne ho 4 PV Scusate Devo fare PA Che palle Pia Lo trovo Pia 50 Mamma mia È incredibile È incredibile Ah è veramente incredibile Va bene Indaga Un bambino di questa città Pino l'anno scorso Era per lo più introverso e tranquillo Ma l'incontro con Emil Ed Eril L'ha reso più socievole Cancellando Ogni traccia della sua indole Che cosa bella Che cosa bella Emil è un coniglio fifone Una volta si è spaventato per la sua stessa ombra Noi tre giochiamo sempre insieme Siamo inseparabili Che cosa bella Gli adulti non mi lasciano mai giocare con loro Eh vabbè Riduce i danni da ghiaccio Se per carità Può essere buono Non metto in dubbio Indaga Un bambino di questa città È uno dei regatini più in gamba E vivaci del circondario Qualità Che gli hanno garantito parecchie amicizie Di recente tuttavia Non sembra più allegro come un tempo E si rifiuta persino di uscire a giocare con i suoi coetanei Ma che cosa brutta Non è che c'è un save qui Eccolo qua Volevo provare Se ve lo concedete Di prendere Quella roba un pochino più dura Non dovrei farcela Però insomma Con Arfene non lo usiamo mai Perché ormai siamo diventati forti Per carità Però arriverà il momento che servirà E quindi Ecco Figuriamoci E niente E ci riprovo E rifallisco E non demordo E ce l'ho fatta E porca vacca Ce la posso fare Oh Dio se l'ho dato E quante volte ci ho provato Non lo ce neanche io Porca vacca E vabbè È andata così Signora signorina Alla mia età Non c'è nulla di meglio Che starsene Con le proprie amiche Eh Sono contento per te Che ce li hai Insomma Difesa fisica Difesa elementalo Eh Non dà schivata però Quindi non me ne frega un cazzo Eh Attacco elementalo Attacco elementalo Attacco fisico Attacco elementalo Eh A volte addormento al bersaglio Ci facciamo una Dormita da panico Ascia incantata Vediamo un po' Vediamo Vediamo Il pagamont Ascia 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 Dell'anima Dei mortacci Non c'è buona Mi dispiace Dove cazzo è Ascia incantata Sì Non è così buona Sì In realtà con le mentalo Che non ce ne frega un cazzo Ma scusate un attico È già che ci sono Scusate che fa delle cose Adesso andiamo a provare A prendere quello là Perché mi interessava Poi magari scopro che è una cacata E siamo contenti e felici E vabbè E ce l'abbiamo fatto Cappello elementalo Andiamo un po' Qui pagamont Sappiamo già a chi metterlo Cappello vescovale Lì Cappello elementalo Oh Ma che cosa grandiosa Mi dà poco Di attacco elementalo È vero Però mi dà Molta difesa fisica In più Cioè È tutto da guadagnato Questo Io Lo metterei Con assoluta devozione Mi è stato molto utile Signore ragazzi Vediamo un po' Nessuna Una vecchia vedova Che vive immersa Nella quiete E nella solitudine Non è mai stata Di animo sacevole E dopo la morte del marito Ha trovato Stento Persone Con cui parlare Durante una passeggiata Tuttavia Ha incontrato Una donna Della sua età È diventata Sua buona amica E da allora Ha ricominciato A godersi la vita Ma che cosa triste Salve signora amica Lei è molto nobile Oh Difesa Solo Vabbè Caetà È tutto da tank Mi fa piacere Attacco fisico E precisione Attacco fisico È un po' Una merda A parte che mi sa Che ce l'abbiamo già Mi sembra E qui fa Jamont Ascio Ho sbagliato Dove cazzo vado Ascio D'argento Eh sì Ne abbiamo tre Infatti Va bene Vediamo un po' Cosa dice adesso Nessuna Questa anziana signora Vive in città Da molti anni Sebbene Il suo carattere ostinato Le impedisca Di farsi Di fidarsi del prossimo Di conseguenza È un Enormemente Grata All'amica Che accetta Comunque Di restare al suo fianco Per quanto Non riesca A esprimere Compiutamente La sua riconoscenza Beh Si completa una vicenza È una cosa carina Alla fine È vuota la casa Non c'è un cazzo Dove si va di qua Eh Non si va di qua Ecco Dove si va Parliamo con la signora Qui È un uomo Non lo so Sì una donna Dicono Che la foresta Piovanti Sia infestata Da un lupo gigantesco Spero Si tratti solo Di una leggenda E lo speriamo tutti Scudo evasivo Oh Ma mi sembra Che ce l'avessimo Già equipaggiato Però io lo prendo E poi ci guardiamo Eh Lancia pesanto Vediamo Allora Vediamo Scudo evasivo Mi interessa parecchio Per lui Scudo evasivo Elusivo No evasivo Quindi dovrebbe essere Un'altra cosa No è la stessa cosa Solo che io Come al solito Non so leggere Ed era elusivo Mi sembra ovvio Ma porca vacca Allora vediamo un po' Scudo elusivo E ce l'ha anche lui E questo qui Mi dice no Quindi proviamo Scudo alto Scudo elusivo Mi diminuisce Qualcosina Però mi aumenta Di tanto Io lo metterei Con gran orgoglio E quindi insomma Si Lascia Dobbiamo vedere Scusate La lancia Che mi sembra Molto meglio La nostra Ma proprio tanto Meglio Non penso che ci sia Altri che lo usino Ok Ci sono Ma non In questo momento Quei pagiati E quindi Un oggetto nascosto Questa giovane Vive in città Con il suo nonno Un tempo L'uomo era forte In salute Ma la vantale Dell'età Ha debilitato Il suo fisico Per quanto Lei soffra A vederlo In queste condizioni Ha accettato Di acudirlo Negli anni Che gli restano Da vivere Che persona nobile Gentile Di cuore Un oggetto nascosto Ok Dicono che la foresta Piante sia Di tua sorella Ok Andiamo pure avanti Vediamo un po' Stiamo cercando Di far tutto Adesso ho lasciato Le quest Però Che è qua Dopo la Oh ma salve Nette le curate Figuriamoci Mi mancavano Insomma Nel senso Ok Non c'è niente Qui non c'è nulla Qui c'è la cattedrale Qui c'è una porta E qui c'è qualcosa Portamonete pesante Benissimo Questo da vendere Mi sembra che costi Due tre mila O cinque mila Se mi ricordo E siamo arrivati Ok Vediamo se c'è qualcosa Sembrerebbe di no Parliamo col signoro Ma prima Vediamo cosa Ha da darci Tante cose belle Quindi Insomma Sì Eccoci qua Vediamo un po' Indaga Un oggetto nascosto Dopo aver lasciato La casa dei genitori Questo cavaliere È stato assegnato In missione In una terra remota Parlando con suo padre Aveva presagito I pericoli Che possono derivare Dalla sacra fiamma E aveva deciso Di abbandonare La carriera di militare Ma infine È tornato a seguire Gli insegnamenti Della fede Quando ha capito Che il genitore Era mosso Da pura gentilezza Un oggetto nascosto Questa è la cattedrale Dell'ordine Della sacra fiamma Ah una Proprio Cosa Eh Sì Ok Oh ma questa Salve Questa è la cattedrale Di Ponte Sacro Più avanti Troverai il sacradio Vediamo Opa che vacca Aiuto A condurre Ostia voglio È il figlio Del vescovo Bartolo 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 Bartololo Serve l'ordine Della sacra fiamma E si occupa Di molte Delle sue inconvenienze Che aspetterebbero Al suo genitore I due parlano di rado Soprattutto In particolari giornate Ma il loro silenzio È indice Di reciproca fiducia Piuttosto che Di veri Contrasti Beh Insomma Una cosa Nobile Città più facile Inclina Se la tua sorella Ok Vediamo cos'ha Qui È Tacco fisico Praticamente Tu meni La persona E lui E prendi le botte da sotto Ti dai le botte di marrone Però Attacco alimentare Più 285 Ed è tantissimo Critico Meno 50 Che non ce l'ha fatto un cazzo Al mago È una cosa Molto Molto succulenta A 0% Cioè Mi viene un colpo Devo salire Di a meno 100 livelli Qua Questa qui La possiamo prendere E questa Seminutivo E 55 E non voglio rischiare Ok Vediamo un po' Un oggetto nascosto Un sacerdote Amato da molti Per la sua gentilezza E la sua cortesia Saluta sempre i fedeli Con un sorriso Ma non mostra Alcuna pietane Con fonti dei malfattori Ed è disposto A usare Qualsiasi mezzo Per eliminarli Ostromoio Madonna Che cativeria Niente Qui ci vediamo Da diverse lune Ormai Una canaglia Estorce Denaro I pellegrini In viaggio Per la grande catedrale Quando si è sparsa La voce Molti fedeli Hanno deciso Di rinunciare Al pellegrinaggio Quel fuffante Deve essere fermato Ok Sappiamo chi è E lo fermeremo Va bene Vediamo se c'è qualcosa Sì Erba della virtù Perfetto Perfetto Pungola spirituala Benissimo Qui non c'è più niente Adesso Prendiamo tutto Non vi preoccupate Che facciamo tutto Non c'è un cazzo C'è un cazzo da fare Porca vacca Andiamo di qua O salve signoro O salve schigno O della vita Proprio Nel senso Hai buon occhio Ti interessa La mia mamma Vuole cambiare La mia mamma Sì Mi interessa Però la dovevi comprarla Devo cambiare Il personaggio Precisero tanto Cose che non mi interessano Insomma Indaga Un oggetto nascosto Quest'uomo Si reca Alla cattedrale Tutti i giorni Per spiare Il massacro Compiuto In guerra Diversi anni fa Al contempo Rivolge preghiere In memoria Degli amici Perduti Non so se è nobile O gentile Insomma Eh Sì Vediamo un po' Ok Confettura Refrescante Allora Qui Se avessi dato Il personaggio Potrei provare A comprarla Ma Secondo me Costerà Almeno 30-40 mila E mi sembra Un po' Eccessivo Comunque Sia Portiamo Rite il dirame Che non vale un cazzo Però Uno qui Uno là Ok Andiamo pure via Adesso Purtanto Deve fare diverse Queste Non ci dobbiamo Dimenticare Perché sono tutte Quante Fatica a capirle Se no Eccoci qua 3000 Vabbè 3000 vi fa sempre Comodo Qui vedete che Siamo già andati Andiamo giù Se abbiamo Un attico Benissimo Andiamo a fare Un'altra quest Adesso Più di fare l'altra Voglio fare questa Adesso Che siamo L'avevamo lasciata Apposta All'ultimo Andiamo di qua Perfetto Ok Andiamo Dalla signorina Con il signoro Che mi ropeva le pali Dice beh sì Eccolo qua Vai Ti prego Aiutami Oh Di nuovo tu Sono ancora In viaggio Per il regno Alla ricerca Di mia madre Ma questo mascazzone Mi ha aggredito E non vuole lasciarmi andare Ok Vai Eh Speriamo Dovremmo farcela Siamo messi Molto bene Con lei Ok Dovremmo solo Trovargli le dimbolezze Per il resto Dovremmo essere Una passeggiata Ok Questa non è Bene Già cominciamo bene Molto bene Vedete perché ho voluto Ok Questo non fa niente Piano piano Le faccio tutte Vediamo cosa Salta fuori Niente Questo ne abbiamo Poche Proviamo Questa Qua Però chi fa tanto Però non è neanche Questa Quindi proviamo Questa Ok Questa la fa Speriamo ancora così Tanto ne abbiamo due E li ha tolto Mamma mia Se sei forte Ragazzo Complimenti Mi fa piacere Insomma Ok Uno Mamma mia Sta facendo dei danni Da panico Ok Proviamo A vedere Se gli spacchiamo Il culo Signora Mi dispiace Non me ne voglia Però insomma Se devi togli Un attimo Dei maroni 1.7 Mi è piaccionato Parecchio Sta cosa Vai 300 E mi tocca usare Questo Niente Da fare Per il momento Farò così Tanto non mi fa niente Oddio Ho sbagliato Perché Perché Sì ci vuoi 30 anni Per te Pazienza E perché Ho solo questo Non so cosa fare Se no Ok Ok Proviamo così Beh dai Qualcosa Gli ho fatto Lui non fa niente Quindi insomma Vabbè Facciamo come possiamo Se come andrà avanti Come possiamo 297 190 Pim o poi Ce la faremo Che non ho armi Abbastanza forti Altrimenti Hai morto Mi fa piacere A posto Però Ci ha dato parecchio Ottomo Direi che è andata bene Un'altra Quest Fatta Al diavolo Sono solo Uno sventurato Grazie Di nuovo Ho mostrato Quest'uomo La lettera Di mia madre Gli ho chiesto Di mostrarmi la via Ma lui è caduto Preda di una furia Repentina Il sigillo Di quella lettera È l'emblema Del casato Di Gerster Gerster Che sia Il nome della mia famiglia D'origine Come Non conosci neppure Il nome del tuo casato Mia madre Mi affidò A un'altra coppia Appena nata Sono in viaggio Per Vi ricordate Questa Per Il paese Nattio Di Alphen Per ritrovarla Santi Numi Un tempo Il casato di Gerster Era il clan Più potente Della terra Dell'alto corso Ma Finì Per scatenare Una guerra Tra famiglie Dopo un saguignoso Massacro I Gerster Furono iniettati Lo stesso Provengono Io stesso Provengono Da un casato Ridotto Alla rovina Da quel conflitto Non passa giorno In cui Non maledica Il nome Di Gerster È una triste storia Signore I Gerster Le hanno fatto torto E di questo Mi scuso Hai detto di essere stata Separata Dei tuoi genitori In tenere età Signore Non so Se appartengo Realmente A quel casato Ma se Nelle mie vene Scorre il sangue Di Gerster È giusto È giusto Che la colpa Ricada Anche su di me Non posso Fingere Indifferenza Quando sono Giunto Qui Cerca Cerca Della mia Famiglia In cerca Ascoltami Il casato Il casato di Gerster È ormai Rovina Ma se C'è chi Tua madre Ho sentito Parlare Di una Supestite Che vive Nascosta Nelle terre Dell'alto Corso Oh grazie mille Proseguirò Nelle ricerche In tal caso L'alto L'alto Corso Il messaggio Provene da lì E va via Ne grazie Tanti saluti È stato un piacere Ma È andata 6.006 Noce Resistente Vediamo la noce resistente Quella Che me la sono Dimenticata E porca vacca Noce resistente Incrementa Ultimamente La difesa alimentare Per adesso Non ci serve Per adesso E poi non è detto Che il futuro Non ci possa essere utile Quindi cosa facciamo adesso Vediamo se c'è qualcosa Non c'è niente Io salverei E ci salutiamo Così possiamo Bisogna Facciamo anche L'altra quest Che è una cosa Molto piacevole Quindi ragazzi Come al solito Vi invito Salute anche al commento Se mi piace la serie E fammi sapere Cosa pensate Per adesso Salute la cima Ciao ciao